Svolta nelle indagini sull'omicidio di Elisa Pomarelli. L'indagato per omicidio Massimo Sebastiani è riuscito in carcere a ricostruire alcuni momenti successivi allo strangolamento di Elisa e proprio grazie a questi ricordi i carabinieri sono riusciti a recuperare in un vascone nei pressi di Carpaneto il cellulare della vittima. Sempre vicino a Carpaneto i carabinieri hanno recuperato anche le scarpe di Elisa. Il recupero dei dati del telefonino potrà mettere chiarezza sugli ultimi giorni di vita di Elisa e soprattutto sui presunti incontri che la vittima avrebbe avuto che hanno scatenato il blackout mentale di Massimo Sebastiani.